La porta è chiusa, fa scassare il sangue. Ne sei sicura? Deluzione tecnica. Dobbiamo conoscerci, sapere chi siamo. Sappiamo che la donna morta lavorava come ispettrice antincendio. Non più. Era stata licenziata un mese fa. Ma tutto, come cazzo voglio sapere? Sei un responsabile di tutto. E' morta con la testa mozzata. Voglio chiudere quella porta. Voglio chiudere quella cazza. Ma è calma. Per favore. Parlaci di te. Lavoro al piano urbanistico della città. Sposata? Sì. No e no. Tocca a te. Non vuoi rivelare chi è il tuo padre? Mio padre è Richard Ghi. Il padrone dei Cucas? Per tanti anni ha cercato di costruire il nuovo stadio della città. Poi ha capito che doveva solo aspettare che la figlia lavorasse al piano urbanistico. E tu? Eh? Tu chi sei? Quale lusco intralazzo è combinato, eh? Sono vicepresidente di una società che opera nel settore immobiliare. E quindi ti annoia anche tu, eh? Gruppo Marshall? Ma si ottiene alcun permesso senza di alliberare il dipartimento all'urbanistica? Vero? Sì, proprio così. Tu invece? Eh? Non sono sposata. Non ho figli che io sappia e... Non ho un lavoro. Figlio del benessere. Qualcuno si sorprende? Mi hai rotto il cazzo con la tua putta sotto il naso. È il tuo turno. Faccio il giornalista investigativo. Lavoro per l'Evold. L'Evold? Lavori per un giornalazzo di gossip. Che prestigio! Morditi con la lingua di merda. Che diavolo c'è in quei barattoli? Bisogna agire subito prima che scordano la bomba. Salve e benvenuti alla nuova lezione. Dentro queste mura ci sono quattro conigoli. Questi quattro conigoli offrono un rifugio sicuro. Ma per accederli occorrono le chiavi. Ce ne sono solo tre che aprono i rocchetti. Essi trovano dentro i barattoli di vetro appesi al soffitto. Fade in fretta. Perché quando il timer giungeranno zero, gli esplosivi agli angoli della stanza brilleranno. Le possibilità di salvezza sono tre. Chi di voi quattro sarà di troppo? Fate la vostra scelta. E' vuota. Quelle giù che hanno la forma dell'atterradura. Stai fermo, non hai da nessuna parte. Barbagena! E' la legge da più forte. Vuota! Vuota! Questa volta non c'è la carne. E' la legge da più forte. La legge da più forte, piccate la legge. Aspettate! E' la legge da più forte. Penso! E' la legge da più forte.